La sconfitta è una sconfitta che ci brucia per come è arrivata, all'ultimo minuto, dopo la partita che l'hanno fatto, compatta, sia in fase difficile che in fase offensiva, tutti insieme, la sconfitta è una sconfitta che brucia, però ci teniamo alla prestazione, oggi l'ambiente era stupendo, ci ha dato qualcosa in più, credo che se fosse stato tutto l'anno così da inizio dell'anno ci avrebbe portato minimo 4-5 punti in più, e adesso, d'ora in poi, per fortuna ci siamo e speriamo di continuare con queste prestazioni già da mercoledì. Non c'è tempo di vincarci le ferite, Alciorio e Ninam che trovi che era una sconfitta con la partita ad alto coefficiente di difficoltà. Sicuramente loro saranno incavolati come noi per la sconfitta di oggi, l'ho visto che abbiamo perso a Forbì, noi teniamo la prestazione, però mercoledì è importante fare punti perché dobbiamo tornare un po' sul presidio. Grazie.